E' stato convocato il giorno 30 novembre alle ore 18 in prima convocazione ed il 4 dicembre alle ore 18 in seconda il Consiglio Comunale di Capaccio Pestum. Numerosi di argomenti all'ordine del giorno, fra questi le modifiche al piano triennale delle opere pubbliche, le modifiche al regolamento urbanistico edilizio comunale ed il regolamento per la gestione dei DEORS.